Santa Domenica è una piccola frazione a circa 5 chilometri di distanza da Placanica, un piccolo centro isolato sperduto tra l'aspromonte e le sere vibonesi. Si racconta che qui, l'11 maggio 1968, un giovane contadino calabrese, Cosimo Fragomeni, visse un'esperienza che gli cambiò completamente la vita. Confinante con la sua casa, si trovava un grande masso di natura calcarea. E' qui che la Madonna gli apparve, invitandola a creare per lei un luogo di preghiera. Trasforma questa valle in un centro di spiritualità. Da quel momento il giovane contadino divenne per tutti frate il Cosimo, e proprio quel masso, chiamato lo scoglio, diede il nome al luogo mariano. Oggi in migliaia salgono al santuario, tra i più grandi del meridione d'Italia, un luogo che René Laurentin, il più grande mariologo del Novecento, pose accanto a Lourdes, Fatima e Guadalupe, riconoscendo autorevolmente le apparizioni dello scoglio.